La Puglia continua ad essere la regione leader in Italia sul fronte delle energie rinnovabili. Nell'intero mezzogiorno ci sono oltre 76.000 impianti fotovoltaici, 23.000 di questi sono in Puglia per una potenza superiore a 5.400 MW. La seconda regione è la Sicilia, però distanziata. Sono solo alcuni dei dati contenuti nel rapporto allo sviluppo delle fonti energetiche rinnovabili nelle regioni del mezzogiorno presentato a Bari. L'incontro organizzato dalla Fondazione Cercare Ancora è stato occasione anche per riflettere sugli scenari possibili nel 2020. Per quella data ritenuta strategica a livello mondiale, l'energia da fonti rinnovabili potrebbe diventare quattro volte di più rispetto a quanto prodotto nel 2010, ossia 10.584 MW. Le recenti modifiche del quadro legislativo, che hanno abbassato il target di potenza installata e cambiato i meccanismi di incentivazione del settore, potrebbero rendere incerto però il raggiungimento degli impegni presi con l'Europa in merito al pacchetto clima ed energia. Nonostante ciò, Terna, proprietario e gestore della rete di trasmissione nazionale di energia elettrica ad alta tensione, continua ad investire in Puglia per migliorare l'opera di ammodernamento delle reti elettriche. La Puglia è virtuosa in questo, certo favorita dal mondo che risplende dall'alto e dal vento che tira, ma ha saputo in modo notevole scegliere un processo per esempio unica tra tutte le regioni di informatizzazione, sull'autorizzazione unica che la mette in prima fila sulla realizzazione di un processo che funziona.